ciao a tutti ragazzi benvenuti nella prima parte dell'apertura del box fat score 2023 2024 faremo 3 pacchettini a video questi sono i pacchetti da 750 quindi iniziamo subito con i primi tre di questo video ovviamente più carte rispetto ai pacchetti normali iniziamo eccoci qua mettiamo subito una sbirciata anche se trovi patricio queste come al solito andiamo un po veloce che ovviamente abbiamo più inserti rispetto ai pacchetti base vediamo il primo a ruvi andreva nicolossi giro schurz e la breakthrough di ebosele dell'udinese o trucchi di legowski e sempre le solite base attenzione qui abbiamo qui abbiamo una parallela normale sulle maglia e quindi dovrebbero essere 4 inserti a pacchetto differenza del dell'uno singolo che c'è in questi box che vedete sullo sfoglio andiamo avanti qua sembra esserci qualcosa di colorato capiamo consigli questi sono sempre le solite un po veloci adesso romagnoli caputo prima numerata del box del torino abbiamo ilic 50 su 50 keeper di mike magnan breakthrough di marcus turam e abbiamo una parallela base di davide frattesi le altre tutte basi abbiamo col terzo e ultimo pacchetto di questo video questo è il primo box che apro quest'anno di fatto orsolini parallel o trucchi di friend group breakthrough di calafiore e altra parallela base di infantino